E quanto è cambiato l'essere testa di serie nel tuo modo di giocare? Tanto, essere testa di serie e comunque non beccare subito le più forti, certo ti poteva capitare una Williams come hai detto tu, però dovevi essere proprio sfigata. Il fatto di essere testa di serie fa tanto, tanto perché comunque come ho detto prima non incontri subito con gente forte e giocare con gente che vede il tabellone e dice cavolo gioco con una testa di serie e sicuramente in testa loro è brutto perché io ci sono passata, quindi ti dà tanta carica. Però non è nascosto che l'emozione della vigilia di un match è sempre la stessa, cioè sei nervoso, prova a raccontarci il pre-match, che il post sei talmente felice che si vede. Ma sì, sì, sei testa di serie, sei contento, tutto quello che vuoi, però vuoi o non vuoi pur sempre una partita di tennis, la tensione, lo stress, il nervosismo, è tanto. È quasi come ovviamente se sei testa di serie forse lo vivi un pochettino meglio, però c'è sempre, c'è sempre. La sera prima pensi già alla partita, devi entrare in campo alle 11, ti devi svegliare presto e già c'è il magone che devi entrare, devi giocare, vai a vedere il campo. Ma penso sia comunque normale, è ovvio che ci sta, ci sta, nel senso è normalissimo. Per fortuna io riesco a viverla un pochettino meglio adesso e sono in campo un po' più tranquilla e questo fa tanto. Questa estate è stata fantastica, così come tutto l'anno hai battuto pure la numero uno del mondo. Vivi questo senso quasi di imbattibilità, cioè nell'affrontare il match, hai quella sensazione di dire posso battere veramente chiunque? Beh, sì, forse sì, ma senza presunzione, ma nei punti, nei momenti di tensione, di nervosismo durante una partita, perché ce ne sono mille, lì cerco di pensare a tutte le partite che ho vinto, tutte le emozioni che ho provato durante tutto questo anno, tutte le avversarie che ho battuto, la numero uno del mondo, quindi cerco di farmi forza e cerco di dire dai, adesso punto importante, momento importante, sei forte, hai vinto tante partite, così e questo mi dà tanta carica dentro, questo è forse il salto che ho fatto anche quest'anno. Allora in bocca al lupo. Allora Crepi, grazie. Allora in bocca al lupo.